Velozissimo il leader di giornata, Minetti, ora a due giri torno ai bidoni, uno da destra e uno da sinistra. Guardate come lo fa danzare il suo New Holland. Il marino ci tiene in mente, non vuole di morire. Il marino ci tiene in mente, non vuole di morire, non vuole di morire, non vuole di morire. Ora abbiamo il secondo centro nel palo dell'impiccato. Per i minuti, in primi anni siete in corso, guardate come si chiama, bravissimo. Andiamo a posizionare il rimorgio. Con l'aiuto degli addetti lo sgancio, velocissimo, via le patine. Doppia buca, a destra per la barra. Start, bidona in retromarcia, andiamo a farci questi due bidoni con due giri per ogni bidone. Secondo giro effettuato. Ora andiamo a buttare giù i paletti. fissati sulla barra. Uno. E due. Ah, peccato, peccato per la barra. E ora via con servizio in camera. Siamo curiosi di conoscere il tempo di Minetti che ha fatto una buonissima prova. E ora, peccato per questa pena. Tempo! No! 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 No!